Sta andando. Adesso si è in una palla. Allora, il sentire il mio trattamento deve essere dolce o morbido. Allora, il sentire il mio trattamento deve essere dolce. Perfetto. Adesso, se sembra un pensionista, mi metti il solo lavoro. Ho la mia gianna, lo amo. L'importante è che vai a dire l'accoglienza alla persona. E' una altra visione sull'agra di vestito. Però, non per la psiche umana, che dice amista, e rimbottiamo. Dico che, con il piccolo della mia natura, rimbottiamo a fare il presente. E quindi tornare a essere dolce. Stiamo usando la valutazione del tempo. Lì. La prossima volta, come è, potete alzare l'acqua e mettere il mio trattamento. Ok. Ma consiglio questo stразco, in parte la testa a sinistra, quindi dovrebbe vedere qua, a questo punto, ok, a questo punto io, non è la testa, è nella parte interna, la mia testa rimane sempre ferma, che è quello che muove nella parte centrale, cioè la mia testa non è sbampata, ma c'è un animale tempo, bravo, non mi rendo questo, mi stai dando l'energia che non fa bene, quindi, brava, non fa bene, quando sta a schienare, non ha acceso, ha fermato l'anuno, io ho sala, parte, 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 tanto, io ho parte. e questa carne qua e andiamo a lavorare sui lì si si è morta subito il suono c'è qualcosa che non lo fa suonare il vento che cos'è? il punto che è che dove vuoi il punto che è vero il punto che è vero questo è un re e l'altro è un solo questa che è tirata è un corpo di 20 secondi questo muore subito il suono, senti? non dura niente dura al massimo 3-4 secondi ok 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 c'è il chagra, il primo chagra, mettiamo via il primo chagra da trasformare, la palla sta facendo un lavoro, ti dimentica la rampana, il primo chagra, questa, non è tanto grande se riesce a oscillarmi mentre fai frattamente ok, ora proviamo a mettere la palla sull'altro chagra, chagra, il primo chagra, gioco il primo chlagra sul tre però se il cliente non si alza, sposti l'aria, il foot extrae la palla, e già ancora metti sul tre e devi mettere la fagra sul tre Ok, mi sento il primo e mi portavo su. Senti in presentezza? Ti dà fastidio? Io non ho fastidio. E pianta la campagna. Se fosse una roba, con la guida, mi darebbe messo. E non suonere qui. Sono un po', ho fatto pianto. Ma guarda, io sono una donna, ho fatto pianto un po'. Allora... Mi ricordo sempre di vedere la stanza, in questo momento, che era una donna. Tu usciti quando la campagna non perde l'idea. Tu usciti.